Salve a tutti, benvenuti in un nuovo video di Kifor, dopo tanto tempo riportiamo qualcosa di nuovo, non c'era niente di succoso, e non c'era Jack, e non c'era Jack, quindi 4-5 giorni fa hanno annunciato la nuova espansione, incluse le due nuove case, tutte le gadget e che altre esse annessi, tra cui iniziamo subito parlando dei dei mazzi e degli vari Stalter, a differenza delle vecchie espansioni non ci saranno solo due Stalter, cioè i mazzi e lo Stalter, ma ci sono la bellezza di 3-2 nuovi kit, ovviamente lo Stalter per due giocatori, contenente due mazzi e tutti i segnalini per due giocatori, in più nuovi hanno aggiunto il Deluxe e il Premium Box, esatto, il Deluxe è in pratica lo Stalter 7 per un giocatore, quindi di nuovo C'era la metà della roba dello Stalter, molto semplice, ricordiamo che lo Stalter è uguale a quello di Age of Ascension, e non quello uguale, quindi non con i due mazzi senza codice, ok? In più, cosa più importante, cioè più bella diciamo, il Premium Box, contenente due mazzi unici, 11 chain, un chain DR, cioè un segnalino vincoli, che non sarà uguale a quelli vecchi, non è uno di quei rettangoli Comunque lo mettiamo a foto, non c'è il ciclietto da spostare, ma è proprio una sfera con un cerchio più esterno in cui segni i vincoli e un cerchio più interno in cui segni le carte che peschi in meno E' molto carino questo, a me non piace, no no, questo piace, non mi piace attaccandoci Vabbè sì vabbè, poi 54 segnalini status, 15 tocca un'armatura finalmente Per l'ora magari La cosa varia è che sono solo qui, negli altri Stalter non ci sono Eh che sì, devi comprarlo, devi comprarlo Infatti io lo compro, noi lo compriamo Esatto Ehm, uno sticker set, lo sticker set che cos'è? Sono una specie di foglio con tutti gli sticker delle casate e dei... delle casate, sì Sì, sono cinque sticker per casata e servono perchè inclusi nel loro box, nel premium box ci sono cinque, ehm, cinque box portamasso che sono viola sul davanti sono viola ancora scritta keyfold Esatto Per fare un pupale fuori immagine Fuori immagine Con fianco hanno tre tondini in cui voi con la di giro mettete il simbolo della casa e sotto c'è un rettangolino in cui scrivere il nome del mazzo Non mi fanno impazzire questo Non ci fanno impazzire però è già un passo avanti Poi con quelli che hanno annunciato la collaborazione con... Non mi ricordo cosa, comunque comunque mentre parliamo facciamo vedere il video Anzi se volete ve lo dico subito come si chiamano quelli con cui hanno fatto la... GAME GENIC Che hanno fatto dei bellissimi portamazzi che mi piacciono A me piace quel fatto che hanno votato di far affrontare tre mazzi in po' al stile AERSTONE Che scegliono il presente Sì, sì, vabbè Quindi hai la possibilità di portarli tre fisicamente e infilare anche la carta Sì, perchè effettivamente sono dei portamazzi che sono rigidi Infatti c'è i due fianchi e il dietro rigido E davanti c'è uno spalterino scorrevole con i tre bucchi in basso del caso In cui si vede l'immaginina della casa e il nome E un buco grande in cui si legge... Si vede il disegno dell'alconte e il nome del mazzo Oltre alle nuove staltere, come abbiamo già detto Hanno annunciato due nuove casate Esatto La federazione sauriana... La repubblica sauriana, scusate Che sembra molto stile romano i vestiti Sì, sono dinosauri vestiti da romani O spaltani Dipende La... E... Per... Proporsi questa repubblica sauriana C'è... Arriva anche la federazione... La grande federazione sterile Si, che è un mix di varie galassie... Si vabbè... Esatto Di varie popolazioni Ovviamente come in ogni espansione Oltre alle nuove crater Insieme a queste crater Arrivano nuove meccaniche Che queste meccaniche sono... Sono molto... 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 Molto interessante Allora... Prima meccanica Il... La wild O la protezione Penso città di duca protezione Si, che è la creatura protetta Tu, grazie ai fatti di crater Tu puoi proteggere le tue creature Cosa vuol dire proteggere? Mettere un segnalino protezione su 2S Quando queste carte Stanno per subire danni O stanno per uscire dal gioco Questo segnalino viene rimosso E... La... La... La creatura torna in campo C'è... Senza danni Poi Altra funzione È... L'esaltazione Effetti di carte Che fanno esaltare le proprie creature Cosa vuol dire esaltare? Mettere... Un'amba sulla cattura È come catturare Solo che tu invece di prendere amba E dare la riserva del tuo avversario La prendere la riserva del tuo avversario La prendere la riserva del tuo avversario La prendere la riserva del tuo avversario È un modo per sfavorire Vuol dire... Tu dai un'amba al tuo avversario Ma... Attivi effetti Molto forti Dopo ne vedremo un paio Si, esatto Vedremo un paio di carte Della nuova... Delle nuove... Delle nuove case Vedremo tre carte Delle due case Che fanno capire un po' le sinergie Delle due case Più che altro quella della Repubblica Sauriana Le altre funzioni sono... La... La... Quella... Quella... Un italiano che non riesce a formalizzarla C'è un italiano... Impronunciabile Adiare 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 Lo dico io con la remoscia Quindi... Può dirla a tutti Vuol dire che... Quando una creatura... Viene su... Una creatura viene messo questo segnalino Quella creatura... Deve combattere Per cavare questo segnalino Allora... Spieghiamo bene... Non vuol dire... Che... È costretta a farlo... Ma... Se è usata... Deve combattere... E se combatte... Questo segnalino... Viene tolto... Esatto... Non c'è altro modo... Per il momento... Di togliere questo segnalino... Da sopra le creature... Poi... Forse c'è qualcosa... Magari non... Sapriamo... Però è carina... Se ti pensi... Può andare in combo... Con l'altra... Con quella che si protegge... Ti attacchi... Quindi ti cavi... Non rischi di perdere il pezzo... Ok... E... Ultima... Funzione... Cioè... Meccanica... Forse quella che passa più in sottina... Per il momento... Perché... Non è delle creature... Ma è del giocatore... Si chiama... Haunted... In inglese... Cacciato... Cacciatore... In italiano... Non so come... La traduzione... Vuol dire che... Quando noi avremo... 10 o più... Carte... Scusate... Vi direi... La traduzione... Tormentato... Tormentato... Ok... Quando noi siamo... Tormentati... Vuol dire che... Abbiamo 10 o più... Carte... Nel cimitero... Nella prea degli scalti... Per il momento... Non abbiamo visto... Carte... Cioè... Non abbiamo visto... Molti effetti... Su... Su questa meccanica... Tranne una... Il tristometitore... Il tristometitore che dice... Se sei tormentato... Questa carta entra in gioco pronta... Raccolto... Eppure una creatura nemica... Dal gioco... E una... Scusate... Eppure una creatura amica... E una creatura nemica... Dal gioco... Molto comoda... Perché riesci... Quindi... Tu... Se sei tormentato... Questa creatura entra pronta... E puoi subito raccogliere... Se no... Tu puoi comunque giocare... Ehm... Ne abbiamo parlato... Fra di noi... E queste... Carte... Che... Funzionano... Quando sei tormentato... Sembrano... Almeno questa... Sembra... Molto forte... Sì... Per me... Tanto... Devi stare in escala... Devi avere... Cioè... Devi avere una certa condizione... Quindi... Vi leggiamo... Direttamente dal sito... Asmodee... Che... Oltre alle nuove casate... E le nuove meccaniche... Ehm... Questa nuova espansione... Offre ai giocatori... Qualcosa che non si era mai visto prima... Ehm... Su... Sì... Scusate... Il flusso... Vabbè... Qui... Adesso sul sito... Parla di... Sul mondo del crozore... Il flusso di energia... Che ha bisogno di futuro... Che ha bisogno di futuro... Allora... Questi... Questi fenomeni... Hanno portato a seno... A... Queste... Queste azioni... Hanno portato a fenomeni straordinariamente rari... Cittazione del sito Asmodee... Sono noti come anomalie... E... E possono manifestarsi in qualsiasi casa... Quindi... Presumiamo che ci sia almeno una anomalia per casa... Nel caso... Può essere... Non lo so... Per esempio... Il tristometitore è una anomalia... Quindi... Vuol dire che saranno... Dalla descrizione... Possiamo anche intuire... Che saranno carate molto rare... Sì... Poi è molto particolare... Perché devi abitu... Ma per me... È una meccanica carina... È la prima volta che... Sì... Ma poi magari... Vediamo... 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 Bisogna vedere... Come funzioneranno queste anomalie... Si... Saranno abbastanza forti... Da essere... Talmente rare... In un mazzo... Esatto... E se possono... Bilanzare o meno... Il valore di un mazzo... E la sua forza... Vedremo... Vedremo... Anche questo... Cioè... Non possiamo fare... Sono state esplorate tante carte... Un paio di carte... Molte... Abbastanza... Comunque... Non sarà questo il video... Aspetteremo... Adesso in questo video... Ve ne porteremo... Alcune... Poche... Due... Giusto per capire un po'... 3... 3 delle due nuove case... Per farvi capire un po' le meccaniche nuove... E... Quando ci sarà la lista delle carte completa... Divisa per casa... Si... Cioè completa... Con più carte... Divise per casa... Fatte bene... Perché qui ci sono molte foto... Fatte da su un tavolo... Esatto... Un'ospite... Speciale... Che ci dà una mano in ciò... Quindi... Iniziamo con le carte... Prima carta... Filosauro... Creatura della Repubblica Sauriana... Raccolto... Se... Poi guardare... Un 4 di forza... Raccolto... Poi guardare... Le prime tre carte del marzo... E... Archiviamone una... Aggiungerne una alla mano... E scaltare la terza... Non è male... È un raccolto... Molto forte... Molto forte... Soprattutto perché... Non è che dice... Peschi la prima... Archivirà prima... Peschi la seconda... E scalti la terza... No decidi tu... Decidi tu... Quale scaltare... Quale pescare... Quale archiviare... Esatto... Molto forte... Per... E questo diciamo... Che è la carta rappresentatrice... Della Repubblica Sauriana... Mentre la carta rappresentatrice... Della federazione esterilare... È il capitano... Valgerico... Un 5 di... Almatura... Di... Magari... Sì... Un 5... Un 5 di... Un 5 di forza... Un 1 di Almatura... Quando... Ah vero... Questa meccanica... Non ne abbiamo parlato... Ma non è una vera e propria meccanica... Quando... Durante il mio turno... Se... Questa carta... È al centro... Della linea di battaglia... Che dobbiamo ancora capire... Cosa intendono... Adesso vi spiegheremo... Puoi giocare una carta... Che non è della... Casa attiva... Quindi vuol dire... Che se Ray è al centro... Della... Della battle line... Quindi... Non vuol dire... Che non deve essere su un fianco... Ma vuol dire... Che se le creature sono dispari... Se sono 3... Lei deve essere quella al centro... Se sono 5... Devono esserci... Le due... Le due... E lei deve essere quella al centro... Non sappiamo... Se... Le creature sono pari... Le due centrali... Sono considerate... Cioè... Se il centro è considerato... Come le due centrali... O non c'è un centro... Tanto lo faranno... Lo spiegheranno... E... Il suo effetto vuol dire... Che se... Ray è al centro... Io ho un mazzo... Con ombre... Dis... E... Federazione Stregare... Ray è al centro... Io chiamo... Ombre... Posso giocare una carta... O Dis... O Federazione Stregare... Quindi il suo effetto... Si attiva anche se non chiamo... Federazione Stregare... Come notavamo... Leggendo alcune carte... La Federazione Stregare... Compensa... Fa molto... Sinergia in generale... Non ha molto... Cioè... Abbiamo visto molte carte... Che dicono... Usa una carta... Non di questa casa... Una carta di un'altra casa... Si... Molte... Molte carte così... Comunque... Ne vediamo nel prossimo video... Perché sennò... Questo è un video proprio... Spicciolo veloce... Una miglioria... Sempre della Federazione Stregare... Un'Ambra stampata... Questa creatura ottiene... Raccolto... Proteggi questa creatura... Un schifo non fa... Molto bella... Soprattutto perché... Non è come... Cioè... Quando perde protezione... Questa miglioria... Rimane attaccata... Quindi se... Tu potresti anche volendo... Proteggerla più volte... Nella partita... Ovviamente... Dei miglioria utili... Potrei dire... Molte comunque... Utili c'erano... Ok... Seconda realtà... Per la Repubblica Sauriana... Paraguardiano... Raccolto... Puoi esaltare... Paraguardiano... Se lo fai... Proteggi... Ogni suo vicino... Cioè... Non è male... Concedi un Amber... Al tuo avversario... Che in Great Game... Potrebbe essere... Una cosa... Pazza da fare... Ma in... Inizio del game... È... Una cosa... Banalissima... Per proteggerti... Due creature... Che possono essere... Tipo... Abbastanza fastidiosi... Abbastanza... Fastidiosi... Pensa anche solo... A dare un... A protezione... A un Taunt... Che di fianco... A una creatura... Che dà fastidio... Tipo... Non sappiamo... Se... E quali... Gli altri... Ristamperanno... Rimper... Dele Ambre... Ci ha molto fastidio... Il... Il fulgo... A verme... Che struna... Le creature... Che accorgono... L'Aversario... Vedremo... Può fare... Molte cose... In combinazione... Con l'ultima... Carta... Della Repubblica... Che vedremo... È un'azione... Gioco... Proteggi... La creatura... Distruggi... Tutte... Le creature... Che non hanno... Ambre... Su di esse prendi due vincoli Cioè prendendo due vincoli Vedendo quelle carte che abbiamo visto Tu poi hai molti modi Di mettere Embry sulle tue creature E soprattutto se tu magari tenesce Una che non riesci a farlo Comunque stai la proteggi Perché protegge una creatura vuol dire Non farla distruggere dal suo stesso effetto Più anche dal fatto che Non puoi distruggere Cioè ti attivano rivoluzioni, distruzioni Quando esce una giocola è protetta Quindi vedremo anche Questa cosa meccanica nuova E poi Abbiamo girato un po' nel web Abbiamo scoperto quest'altra carta L'ultima poi basta Perché ci servono altre carte valide Ma questa è una cosa in particolare Una miglioria della federazione sterile Un'ambra stampata La creatura che ha Questa miglioria ottene combattimento raccolto Infligge due danni a una creatura Oppure Puoi attaccare questa miglioria Allo Allo Scerifo Garzia Che Scerifo Garzia Infatti questa Questa Miglioria si chiama Garzia Blaster Fuzile di Garzia C'è un effetto secondario Dopo che è attaccato questa carta Allo Scerifo Garzia Ruba 1 È la prima carta in Keyford Che vediamo Fare un effetto secondario Se è attaccata A una determinata carta C'è È molto particolare Cioè Li vedavamo Sottolineiamo ancora che non sappiamo Cosa fa Lo scerifo Garzia Dimmi Sì Li vedavamo Signor Wright può rispondere Posso rispondere No Vedavamo quegli effetti Che chiamavano altre carte Tipo Guarda per esempio Sì Aiuto del futuro Esatto Aiuto del futuro Quello dell'orso Aiuto del futuro E il franotto del rosso Ti facevano prendere Quella determinata carta Il grunk Esatto Anche la regina Nifu Sì Questa invece Fa un effetto secondario Se è attaccata A una carta Poi magari Noi non sappiamo L'effetto dello scerifo Garzia Magari L'effetto dello scerifo Garzia È Combattimento raccolto Prendi il Garzia Blaster Dal mazzo Ma di dire mai Può essere Però C'è il Garzia Blaster La prima carta Che dice Sì Questa carta Fa questo effetto Sì È attaccata A questa carta Fa anche questo effetto Vedremo Bisognerà vedere Cosa fa il Garzia Blaster Il Garzia Scherif E rimaniamo Se ne ho tentato Perché il gioco Come evento Ci piace Ci ha preso E scusate Se non l'abbiamo portato Tanto Queste prime impressioni Sono molto impressionanti L'unica cosa Ti dispiace Perché purtroppo Caveranno Marche Ah sì Non l'abbiamo detto No Non siamo adesso Per Sostituire Hanno annunciato Per non Aumentare Per non mettere Troppe carte In Sur Nell'espansione Hanno deciso Di rimuovere Cioè La Repubblica Sauriana Entra al posto Di Malte Mentre La Federazione Esterale Entra al posto Di Sanctum Ciò vuol dire Che Non In questa espansione Corrisione dei mondi Non abbiamo neanche detto il nome Non ci saranno Queste due Queste due case Ma non vuol dire Che nelle prossime espansioni Non potranno tornare E non ne verranno Rimoste altre due Perché magari In questa ci sono Queste due Nella prossima Sto inventando io Nella prossima Che uscirà A Malzo E ritornano loro Non ci saranno Ci saranno Sanctum e Malte Ma non ci saranno Ombredis Questo sto inventando io Però l'hanno dichiarato così Hanno detto Che possono tornare È stata messa in panchina Ma non è una dir An arrivederci E Hanno tutto niente Hanno fatto Onestamente bene Cioè A me è un po' di spiace Perché Sanctum È una delle mie case preferite Ma È Una ventata D'aria fresca al gioco Tu togli due case Per metterne Altre due Piene di carte nuove Perché Sanctum puoi dire Va bene Fanno delle carte nuove Ma ne metteranno Anche delle vecchie Qui no Queste sono completamente Tutte carte nuove Esatto Perché sono due case nuove No ma a me piace Perché Con meccaniche proprie Nuove E poi se davvero esce l'app Come hanno annunciato Sarebbe bellissimo Va bene ragazzi Noi vi salutiamo È stato un video Molto veloce A caldo Per far vedere Un po' le novità E a settembre Ritorneremo molto più attivi Con fido Con varie varie rubriche Diverse E molto innovative E più Professionali Soprattutto Con Varie ospiti Varie interviste Varie cose E la partecipazione Degli Aniketro Nazionale Italiano Di Giflge Che io Farò come giocatore Sto giro Noi faremo come giocatore Soprattutto anche di squadra Perché Io parteciperò Io sicuramente Parteciperò Al main event Lui e Jack Non lo so Ma Di sicuro Parteciperò Al side event A squadra A squadra Non vediamo l'ora Io e loro due Non vedo l'ora Noi dopo aver segnato le news Sia di Giflge Che nostra Relativa Giflge Vi salutiamo Vi salutiamo Anche da Jack Oggi metteremo qua Il suo bel faccone Perché mancherà E ciao a tutti ragazzi Ciao Ciao